incredibile ma vero un sabato sera tranquillissimo anche per noi milanisti dopo quello che abbiamo passato durante la settimana mamma mia che bella sensazione vedere una partita tranquilla serena con tante cose positive mi mancava mi mancava proprio vedere un milan vincente convincente senza troppe seghe mentali senza troppe incazzature o una partita rilassante rilassante posso dirlo rilassante è incredibile che in questa partita abbia segnato jovic abbia fatto pure un assist ha segnato tomori su calcio piazzato e teo hernandez da difensore centrale ha fatto credo per assurdo una delle sue migliori prestazioni quest'anno a livello difensivo e poi il gol di pulisic che continua la sua stagione positiva a livello di statistiche a livello di rendimento ciucquezze così così e tante cose negative ma qualcosa di positivo rainders partita un po da fantasma musà tanta corso tanto impegno e tanta voglia di fare come al solito loctus chic un po in ombra deve rientrare ancora in forma insomma in generale un milan che mi ha dato la sensazione di aver capitalizzato il massimo senza aver fatto chissà quali sforzi no e sono contento di questo sono contento di un altro di un'altra presenza di camarda anche se per pochi minuti in questa partita stava per andare in gol maledizione ma ocoli li ha fatto fallo l'ha trattenuto anche se il fallo poi l'hanno dato al frosinone ma vabbè e che dire anche ciacca tra ore è entrato ha fatto una sua un'altra sua apparizione per qualche minuto insomma tanti giovani gli sta lanciando il milan quest'anno devo dire la verità dopo bartesaghi è toccato a ciacca tra ore è toccato a camarda quindi qualche giovane dalla primavera che se ne parla sempre ma che non abbiamo mai visto sul campo di serie a finalmente li vediamo appunto esordire in serie a forse è segno del fatto che il milan un giorno magari tra questi giovani che che vuole fare esordire quest'anno magari tra tra qualche anno ce li ritroviamo nei titolari perché no non sarebbe male ecco diciamo così quindi tanto futuro ultimamente in queste partite è un momento così da stagione si sa è un momento di difficoltà sono uscite fuori tante notizie tante polemiche forse sono uscite nel momento sbagliato e questo poteva provocare diciamo una situazione poco piacevole anche a livello ambientale devo dire che san siro non è più caloroso come mesi fa ma è un effetto inevitabile e naturale quando quando vinci uno scudetto fai quello che hai fatto l'anno scorso e quest'anno tra gli addi che ci sono stati i derbi persi e le umiliazioni subite dopo un po il milan e i milanisti soprattutto incominciano un po a scocciarsi a stancarsi ecco soprattutto dopo quello che dice la proprietà davanti alle telecamere davanti ai microfoni che parla sempre di arrivare nei primi quattro posti di di andare avanti in champions ma non parla mai di vittorie di ambizione di storia come noi siamo abituati no quindi questa proprietà non non trasmette passione non trasmette l'ho detto anche l'altra volta non trasmette nulla a livello di ambizione di voglia di vincere qualcosa e quindi di conseguenza poi si appiattisce un po tutto il tifo in generale no quindi dobbiamo guardare come va il campo analizzare partita per partita e vedremo un po è un periodo così è un periodo che dobbiamo sopportare noi milanisti siamo sempre qui nel bene e nel male oggi serata tranquilla ripeto da stare contenti si è sbloccato jovic ha fatto anche un assist poi anche i gol di tomori quindi insomma in generale anche i gol di politico e quindi in generale una squadra che anche senza leao e girù torna alla vittoria torna i tre punti dopo la prestazione deludente in champions ragazzi ditemi la vostra mettete mi piace commentate iscrivetevi al canale buon sabato sera a tutti e buona domenica e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi